Pandolfo, la Serie D è lì, a pochi metri, mancano soltanto dei punti, adesso tocca soltanto a voi agguantarla, conquistarla, perché poi sostanzialmente ve lo state meritando. Sì, come hai detto tu, ce lo stiamo meritando, è stato un anno di lavoro, di sacrifici da parte di tutti, da parte della società in primis, poi dalla squadra, dell'allenatore, un po' di tutti, della città anche stessa che in questi momenti importanti, in queste situazioni importanti, anche domenica con la Castelbonese c'è una città intera a sostenerci. Domenica abbiamo questa partita difficile, a Dattilo, contro il Dattilo non sarà facile, noi proveremo a chiuderla definitivamente già da domenica, anche perché vogliamo avere una settimana più rilassata. Siete oramai considerati un vero e proprio rullo compressore, sei vittori di seguito, gol e quantità industriale. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra che meritiamo di stare là davanti, rispetto a tutte le altre siamo stati, all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi da dicembre a questa parte siamo stati veramente devastanti, sia in fase offensiva che in fase difensiva, anche perché io metto il giugno di ritorno, abbiamo preso solo sei gol e ne abbiamo fatti nelle ultime sei, diciannove, quindi non c'è nulla da aggiungere. E per te, nel caso in cui, così come ci auguriamo, dovesse arrivare la promozione, sarebbe la seconda consecutiva dopo quella dell'anno scorso. Eh sì, sarebbe fantastico, anche perché alla fine tutti gli scongiuri del caso, però siamo lì, la vogliamo vincere, voglio conquistare ancora un'altra promozione col Gera e poi si vedrà. Dato importante, significativo, è l'apporto ai tifosi che non vi è mai mancato. Sì, i tifosi sono fantastici qua, è una città che ama il calcio, che sostiene la propria città, la propria maglia. In trasferta è come se siamo in casa, ci hanno sempre dato quel supporto in più che alla fine dà sempre qualcosa in più a noi giocatori, che ci dà qualcosa di dare in più in campo. Dobbiamo riconoscere i meriti anche alla San Cataldese, che non ha mai mollato di un solo millimetro. Sì, la San Cataldese è stata brava a rimanere là davanti, sono stati bravi, però noi siamo stati più bravi.